Si parla tanto di utilizzo massano dei social network, ma in realtà voi con un gruppo su Facebook state cercando di diffondere un'attività che è praticata ormai da tanti anni, sono quattro anni, ed è un modo sano di conoscere questo territorio. Ce ne vuoi parlare? Sì, alla fine è una maniera di far conoscere il territorio intanto per amarlo maggiormente, perché se una cosa la conosci l'ami, se non la conosci, insomma, è un po' così. E poi, almeno per quanto mi riguarda, l'esperienza del camminare, dello stare in natura, mi fa vivere una dimensione diversa, mi fa capire che per stare bene non ho bisogno della macchina di 50 mila euro, ma mi basta un bicicletta con un pezzo di pane e la bellezza di quello che ci circonda. Vogliamo parlare di questo gruppo, come si chiama, quanti membri ci sono all'interno, e poi come si fa a poter venire con voi, e cosa fate e dove andate? Questo gruppo l'abbiamo chiamato andare a piedi più lenti, più dolci e più profondi. In effetti, in questa denominazione c'è tutta la filosofia del gruppo e i valori di questo gruppo, la lentezza prima di tutto, perché la lentezza riteniamo sia la forma migliore per conoscere un territorio. Noi siamo abituati a conoscere facendo il viaggio in aereo, in macchina, sempre con la velocità, mentre viaggiando a piedi, camminando, si ha la possibilità di entrare in sintonia con un territorio e quindi riconoscerlo più profondamente e riesce a vedere delle cose e a sentire delle cose che normalmente non sentiresti e vedresti andando in auto o con altri mezzi. E poi dicevo più profondi perché il camminare lento ti invita ad entrare in profondità in un territorio. Quindi insomma è un gruppo che adesso conta circa 400 aderenti, anche se poi di fatto la maggior parte sono simpatizzanti che ancora non fanno il salto dalla simpatia alla pratica. E ce ne sono però una cinquantina che normalmente tutte le domeniche camminiamo. Camminiamo tra Gargano e Monti Dauni, riscoprendo la bellezza di un territorio che abitiamo e che purtroppo non conosciamo. Ci sono delle spese, è possibile mettersi in contatto con voi? Questo è facile tramite Facebook. Dove vi incontrate? Allora non ci incontriamo, il nostro incontro è solo virtuale attraverso un gruppo Facebook che si chiama appunto Andare a piedi, più lenti, più dolci, più profondi. Chiunque, è un gruppo chiuso, però chiunque ce lo chieda noi lo inseriamo e iscrivendosi a questo gruppo ha l'opportunità, la possibilità di sapere gli itinerari che noi facciamo ogni settimana per aderirvi semplice. Noi chiediamo una quota di adesione annuale per tutti i percorsi di bassa difficoltà di 30 euro all'anno tenendo conto che camminiamo ogni domenica è una spesa irrisoria. Chi invece non intende fare questa adesione annuale la partecipazione è di 5 euro a camminata. Grazie a tutti.